Dopo essere intervenuti per stabilizzare le fondazioni di questa villetta e averla messa in sicurezza, restano comunque i segni del cedimento. Oltre che antiestetiche, le crepe sono soprattutto un problema strutturale. Il muro ha perso l'integrità originaria, diminuendo la sua resistenza. Una lesione passante su un pilastro, ad esempio, segnala la perdita della sua funzione portante. Ecco perché la riparazione delle fessure deve essere eseguita in modo professionale. Uretec utilizza prodotti e tecnologie capaci di garantire un'adesione monolitica tra le parti lesionate, ripristinando la continuità strutturale di ogni elemento, il tutto in modo rapido e non invasivo. Si comincia rimuovendo l'intonaco deteriorato. Si prosegue pulendo accuratamente la crepa dai residui, per poi imbibire la parete. A questo punto si stende una speciale resina o malta, progettata per gli incollaggi. Si applica poi una rete in fibra di carbonio o di vetro, dalle eccezionali proprietà meccaniche, come rinforzo strutturale. Si stende un ulteriore strato di resina epossidica o malta tricomponente che ricopre la rete. Lo stesso procedimento si esegue per gli interventi di riparazioni delle lesioni, anche passanti sui pilastri, ripristino della loro funzione portante. Infine si rifinisce il tutto pulendo accuratamente la superficie. Con Uretec hai un pacchetto completo, consolidamento delle fondazioni e riparazione crepe. Il tutto con garanzia Uretec di 10 anni e polizza assicurativa di 10 anni. Risolviamo il problema dei cedimenti e delle crepe da oltre 30 anni. Con Uretec unico fornitore, unico referente, unico supporto pratiche e benefici fiscali. Perché Uretec risolve. Grazie a più di 30 anni di esperienza, il metodo Uretec è apprezzato dai professionisti del settore. Rapido, economico e poco invasivo. Ha già permesso di stabilizzare 20.000 strutture su tutto il territorio italiano. Grazie a tutti.